1, 2, eccolo qua, eccolo qua, buonasera, volevo gridarlo più forte ma qualcuno mi ha tarpato buonasera, come state? vi vedo belli, belli pimpanti, vogliosi di musica, ecco bravo, e niente, che dire, Fabio Trentini, voce, basso, guitarra musica, Fabio Trentini, il maestro Michele Bon, detto Pop Popus, alle tastiere, le mille, le mille grazie, le mille mani, non so come faccia sinceramente, no, vabbè insomma, lo so io, ve lo racconterò fra tre anni, quattro, abbiamo suonato qua nel 2008 credo, giusto? 9! 9! Oh yeah, ma erano in trio, non fare come altro che non si... Ma era in vero, l'ho fatto apposta perché lì c'è un rompi, e siccome sa tutte le date delle orne, allora io sbaglio apposta per farlo sentire, aspetta, ripetiti, 2009, ciappa qua, dai, che altro compleanno non ci sono, dai, ciappa qua, tu, hai capito? Cappa, ciappa qua, ciappa, ciappa, a tutti i Miki! Chi, chi, no, 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 per chi mi sta? Molta sfida ragazzi E te l'ho tirato Ah che bello Grazie Suonate con me Adesso lo faccio Questo era quattro quarti Cioè otto ottavi Adesso lo faccio in sette ottavi Provo? Con la bacchetta Con due bacchette E' facile Grazie 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 Gian Piero Il tuo compleanno Ma non rompere le palle Il mio compleanno è fra un mese Fra un mese non ci vediamo E allora Io direi di iniziare con Con la cioccona di Bac Che ne dite Che ne dite Il mio compleanno è frazzi Ma non rompere le palle Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.